la nostra mente viene solleticata a livello più vivo e intuitivo da questi volti il tipo di rappresentazione vuole svincolarsi da qualsiasi valenza di racconto o di illustrazione narrazione dando più spazio alle sensazioni e all'istinto definito dallo stravolgimento formale delle immagini stesse bacon diceva io voglio deformare le cose al di là dell'apparenza ma allo stesso tempo voglio che la deformazione registri l'apparenza anche nelle trasposizioni dell'artista bottellini non vi è una cancellazione della figura una negazione dell'uomo ma vi è piuttosto una restituzione di esso in maniera tormentata cruda quasi un eccesso di verità che si trasforma in ricerca di emozione l'intento primario sembra essere lo sviscerare una materialità alienata dalla solitudine al di là del raggiungimento della bellezza formale non ci si limita all'apparenza estetica ma vi è pura ammissione di un'umanità dolente attraverso volti carichi di urgenza espressiva immagini isolate su un fondo neutro a volte figure decentrate nel layout immaginativo della realtà che hanno ancor più il valore del vissuto hanno ancor più corpo dell'istinto danno forma gli interrogativi sull'origine degli stimoli più profondi danno voce alla convulsa bellezza della vita grazie a tutti